Se la politica si era sollevata di fronte alla scarcerazione del 35enne bengalese dopo la tentata rapina in via Zenson, la conferma della sua pericolosità scatena le reazioni del primo cittadino uscente e degli altri candidati a sindaco di Treviso. Io sto dalla parte dei cittadini che si chiedono il perché delle cose, perché questa persona era ancora in libertà nonostante quello che aveva combinato, ma soprattutto oggi siamo qui a contare anche due feriti e quindi la domanda che i cittadini si pongono è ma cosa deve fare uno in Italia per finire in galera? Un sindaco in questo contesto può esprimere solo rabbia e impotenza, commenta il candidato del terzo polo Nicolo Rocco, esprimendo solidarietà all'operatore Caritas aggredito e alla gente rimasto contuso. Il territorio può lavorare sulle reti di prevenzione ma esiste un limite oltre il quale ci si può solo affidare allo Stato e alla giustizia. Dal centro-sinistra Giorgio De Nardi invece non la fa passare liscia a Mario Conte. Il sindaco ha la sua potere, il ministro della giustizia è Nordio che è amico fondamentalmente trevigiano, quindi è amico della giunta attuale e quindi onestamente Conte, visto che ha scritto ai ministri per la questione dei giorni, che scriva di nuovo e che si faccia risolvere il problema del suo governo. Va anche oltre Maurizio Mestriner, candidato sindaco di Movimento 5 Stelle e Unione Popolare. Spaccio, aggressioni, violenze portano a un escalation di criminalità e insicurezza non più tollerabile, a Treviso dice un fallimento dell'amministrazione comunale che grida un cambio di vertice alla gestione della nostra città. Focalizza invece l'attenzione sul bengalese violento, sulla persona Ugo Moro, candidato sindaco del Partito Comunista. Non possiamo pensare che il carcere sia la risoluzione di tutti i problemi, afferma. Prima o poi questa persona uscirà e che futuro avrà. Quanti di questi episodi commessi da persone che hanno problemi psichici e che non hanno lavoro? si domanda infine.